Sesta Corsa di Palermo Gran Premio della Regione Sicilia Gruppo 2 C'è l'errore in fase di allenamento Da parte di Petra Axe I cavalli vanno dunque Sulla retta di fronte Sulla retta delle tribune per la partenza Partenza che vede Un po' come da copione Novarica Assumere il comando Parte molto bene dall'esterno Paolo M Con Mimmo Zanca che adesso proverà A ripiegare secondo in corda E vi riesce nei confronti di Patriot RL Che dunque si sistema in terza posizione Mentre Merico dalla seconda fila Tenendo la scia di Patriot RL È riuscito a guadagnare la quarta posizione I cavalli dunque vanno per Imboccare la retta di fronte Con Novarica al comando Paolo M in seconda posizione Ha preso discretamente in mano Davide Di Stefano Comunque 29 e qualche spicciolo Per i primi 400 metri Adesso si presenta molto deciso Il favorito Papercalf E prima dei 600 metri Passa a condurre 600 metri peraltro Anche abbastanza comodi Per la categoria 44 e mezzo Con il favorito Papercalf A menare la danza Nei confronti di Novarica In terza posizione Sempre Paolo M Per linee esterne Noab Che deve affrontare il solito Percorso molto periglioso 800 metri tranquilli Un minuto abbondante Sul mio cronometro Vedremo un po' adesso Il passaggio del primo chilometro Con Papercalf Che conduce l'operazione In maniera piuttosto disinvolta Primo chilometro Comunque ha allungato Papercalf 13 abbondantini Per la metà gara Del cavallo che ha al comando Con Biagelo Verde Papercalf Continua a impegnarsi All'esterno Noab Che cerca di avvicinare Novarica Paolo M Resta terzo in corda Precedendo Merico Mentre Patriotterrelle Ha spostato in seconda corsia E ha preso la scia di Noab Dunque siamo ai 600 finali Con Papercalf al comando Novarica in seconda posizione Noab che prova a progredire All'esterno Ma comincia a risentire La fatica del percorso esterno Va in terza ruota Patriotterrelle E prova a progredire Ma la sua azione Non sembra almeno Sin qui particolarmente brillante Siamo ai 400 finali Il miglio viene raggiunto Attorno all'1.58 E qualcosina Da Papercalf Che continua a guidare Nei confronti di Novarica Resta ancora all'esterno Con gran coraggio Noab che ha contenuto L'avanzata di Patriotterrelle Lungo la corda Sempre Paolo M E siamo alla retta conclusiva Entra al comando Papercalf Sposta Novarica Per il suo spunto finale Che potrebbe anche essere molto pericoloso Ma Papercalf Dà l'impressione Di poter arreggere La stoccata Di E vi riesce La stoccata di Novarica Dunque Vince Vince Davvero alla grande Papercalf Rispettando il ruolo di favorito 2.76 La quota Ritorno ad un gran premio Per Biagelo Verde Come driver I colori della scuderia Bimag SRL Nulla da fare Per Novarica Che comunque viene a cogliere Un ottimo secondo posto Mentre per la terza piazza Un davvero coraggiosissimo Noab Riesce a prendere Un piazzamento strameritato Dunque Papercalf E Biagelo Verde A segno nel gran premio Regione Sicilia Sesta corsa 2.3.5 L'ordine d'arrivo Naturalmente ancora ufficioso Un piazzamento Un piazzamento Un piazzamento I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my strength And kicked in my face But I've come through We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losing Cause we are the champions Of the world No time for losing Grazie a tutti